Guerra aperta tra Comune di Teramo e Ruzzoreti. L'amministrazione comunale, dopo essersi rivolta ad un collegio arbitrale, che ha però dichiarato la propria incompetenza parziale a riguardo dei singoli componenti del CDA della Ruzzo, ha deciso di continuare a far valere le proprie ragioni contro l'ente acquedottistico sia davanti al collegio che in tribunale. Il fulcro della controversia risale al 1 dicembre 2018, quando l'Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione di Ruzzoreti. Presidente fu eletta l'avvocato Alessia Cognitti, già vicepresidente insieme ai consiglieri Alfredo Grotta e Antonio Forlini, anche loro rispettivamente ex consigliere ed ex presidente della società. I tre avevano rassegnato le dimissioni dai ruoli rivestiti in precedenza, in seno alla stessa Assemblea, che poi ha assegnato loro il nuovo incarico. Il Comune di Teramo votò contro questa decisione, ritenendola illegittima, posizione che il Sindaco di Teramo continuerà a sostenere in ogni sede legale. Andiamo avanti per i cittadini teramani, non solo teramani della nostra città ma di tutta la provincia, per un'iniziativa che vuole dare un segnale forte contro un modo di gestire le società partecipate, tutte a servizio della politica e non dei cittadini. Noi abbiamo contestato fortemente il metodo, non le persone e la decisione del collegio arbitrale sul lodo parziale è semplicemente una decisione procedurale che chiarisce che il contenzioso procede tra il Comune e la società e non nei confronti dei singoli amministratori, perché non è una competenza del collegio arbitrale, chiamati come organo, come CDA e non come singoli componenti. Quindi è una decisione procedurale che è solo parziale e rispetto alla quale nel complesso della decisione attendiamo quello che è il lodo definitivo. Intanto il collegio arbitrale, per essersi espresso sulla incompetenza parziale, ha condannato il Comune di Teramo alle spese procedurali di 15.000 euro da pagare ai componenti del CDA della Ruzzoreti, ritenendo però la questione dell'illegittimità contro la società fondata e da affrontare nel merito. Il vero problema non è fare una causa per pagare o non pagare le spese legali o i costi di giustizia, il vero problema è fare un'azione di coerenza rispetto all'azione politica che abbiamo portato in sede di assemblea per evitare che la gestione delle partecipate costi ai cittadini terramani molto più rispetto a quello che è un costo di giustizia. Il costo di giustizia è uno strumento che noi dobbiamo sostenere per far valere le nostre ragioni.